Raffiche di vento nel secondo round del Senior Italian Open, è una giornata dove si fa fatica a gestire lo swing, dove si gioca dal raff con gli ulivi che si muovono come ombre. Va gestita tutta la sacca oggi, bisogna sfoderare colpi speciali e utilizzare i ferri come laser di precisione. Oggi in Toscana si cerca la via più facile. Emanuele Canonica non molla, Peppe è uno tosto quando le condizioni meteo sono avverse. Con i t-shot non si scompone mai e sfrutta qualche buon intuito sui green con pendenze complicate. Riccardo Gonzalez sembra amico di Eolo, l'argentino veleggia sui fairway e non sbaglia mai la strategia. Esperienza da vendere, favolosi, i recuperi intorno al green, forse il più solido di giornata. James Kingston mette ancora la firma su un grande score, James dopo il 68 di ieri era andato a praticare, cercando di simulare colpi bassi e forti nel vento. Ottima idea per il 73 che sommato allo score del primo round lo vede insieme a Gonzalez in vetta al torneo. Un round spettinato che come sempre ci fa divertire. Il vento è nemico per lo score ma un ottimo compagno di viaggio per queste immagini irripetibili. Si mormora di altro vento per il terzo giro sulle vele. Proviamo il grande sprint. Sing your life!